Il lavoro dello sviluppatore non è facile, si deve essere dotati di una mente elastica per capire i vari problemi, generare algoritmi per risolverli e conoscere i linguaggi per tradurre questi algoritmi in qualcosa che, detto a un calcolatore, produca il risultato desiderato. E questa è la parte tecnica. Poi ci sono le pressioni dei project manager e i clienti o utenti finali che vogliono i programmi che non hanno ben chiaro quello che desiderano e non lo sanno spiegare. Ma noi oggi ci fermiamo alla parte tecnica, cosa sono e come funzionano a grandi linee i linguaggi di programmazione. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. La base della programmazione di per sé è facile. Ho bisogno di un certo risultato, lo voglio far fare a un calcolatore, devo dirgli cosa deve fare. Prima devo avere ben chiaro cosa voglio ottenere, questo è fondamentale. Poi devo capire come voglio che questa cosa venga fatta, genero quindi un algoritmo. Infine mi siedo davanti alla tastiera e scrivo un programma, una serie di istruzioni che passate al calcolatore gli dicono cosa deve fare. Ma io parlo una lingua. Il calcolatore, come abbiamo visto più e più volte in questo podcast, può lavorare solo con segnali 0 e 1. Ogni processore ha un suo set di istruzioni che, passate in un certo modo, non scendo troppo nel dettaglio, hanno dei risultati. Per esempio, prendi questi due numeri da questi due posti in memoria, fai la somma e metti il risultato in quest'altra cella di memoria. Ogni istruzione viene passata al calcolatore con una serie di 0 e 1, che combinati per facilitare, si fa per dire, la lettura, saranno delle parole in esadecimale. Ma tutti voi avete visto la gente programmare con linguaggi ben diversi e molto più comprensibili. C'è molto lavoro in mezzo. Possiamo dividere i linguaggi di programmazione in alcune grandi macro-categorie. Iniziamo a dire che HTML non è un linguaggio di programmazione, così ce la togliamo subito, ma è un sistema di markup. Praticamente dice al browser come deve essere formattata una pagina. HTML dice dai enfasi a questo, nel senso di sottolineare il concetto, non il testo, quest'altro. Questo è un titolo, questo è un sottotitolo, questo è un sottosottotitolo e così via. Grassetto, sottolineato, colori, eccetera. Sono cose che poi si vedrà il CSS che vediamo dopo. Nella stessa categoria mettiamo il latex, quello che si scrive latex, ma non approfondisco che siamo off topic. Anche CSS non è un linguaggio di programmazione, quello di cui ho detto poco sopra. È un sistema nato per gestire meglio il markup delle pagine HTML, in parole povere. È quello che si occupa di tutta l'impaginazione vera e propria. Torniamo ai linguaggi di programmazione. Sono in genere di tre tipi diversi, compilati, bytecode e interpretati. Approfondiamo. Ogni software scritto, qualunque sia il linguaggio, parte dal codice sorgente. La parte che è in mano al programmatore, che lui scrive, commenta, ripeto, commenta e documenta, prova, modifica, corregge e via dicendo. Il codice sorgente non è adatto a essere capito da un calcolatore, è adatto a essere scritto da un umano, va quindi convertito. I linguaggi compilati sono quelli che, una volta finito di scrivere il programma, per facile o complesso che sia, questo viene adatto in pasto al compilatore, che prende il codice sorgente e lo converte in linguaggio di basso livello, che possa essere capito ed eseguito direttamente su un sistema operativo e un'architettura hardware predefinita. In base alla bontà del compilatore, il programma raggiunge le prestazioni massime su quel tipo di architettura. Se io sviluppo un software e lo compilo per Windows su Architettura 8086, verrà generato un eseguibile. Lo prendo, lo porto su un PC con Windows, con un processore Intel o AMD su Architettura 8086 e questo funzionerà. Ora, sto semplificando, i software complessi si portano indietro molto più di un solo file che può essere lanciato. Lo stesso eseguibile su un sistema operativo diverso, come ad esempio Linux o Mac OS, anche se sullo stesso tipo di processore, non funzionerà. Non funzionerà neanche su Windows con un processore ARM, a patto di avere Windows che giri su ARM. E' un po' come se io prendessi una persona e le insegnassi a fare la guida turistica solo a Roma in italiano. Se la sposto in un'altra città di Italia, sa la lingua ma non conosce il posto. Se la sposto all'estero, non sa neanche la lingua e tecnicamente non funziona. Se voglio rendere portabile un programma con un linguaggio di programmazione compilato, lo dovrò compilare per ogni sistema operativo e per ogni CPU, ottenendo file eseguibili diversi. La stessa cosa vale se io devo fare software per piattaforme mobili come Android e iOS, ovviamente. Alcuni linguaggi di programmazione compilati sono C, C++, Rust e Go. E' molto complicato tornare dall'eseguibile compilato al codice sorgente, se non praticamente impossibile. Dall'altra parte ci sono i linguaggi interpretati. Scrivo codice, lo porto su qualunque hardware e qualunque sistema operativo, lo lancio e funziona. Wow, magia! No, magari. Sulla macchina su cui lo devo lanciare, devo installare l'interprete, al contrario dei programmi compilati che basta l'eseguibile e parte da solo. L'interprete è un programma che esiste per ogni hardware e per ogni sistema operativo. Ce n'è uno per ogni linguaggio, si installa e da quel momento potranno essere eseguiti i programmi fatti solo con quel linguaggio. L'interprete, lanciato il programma, lo compila al volo e lo dà in pasto alla CPU. Baratto un'estrema versatilità perché posso distribuire il mio codice in unica versione per chiunque con un po' di scomodità, visto che gli utenti dovranno installare un software prima di poterlo lanciare e con molta lentezza rispetto a un eseguibile già compilato. La compilazione al volo, infatti, prende molti cicli macchina e rallenta l'esecuzione. Alcuni linguaggi interpretati sono PHP, Ruby, JavaScript, che non è parente di Java, e Python. Torniamo alla guida. Io le insegno la storia di molti posti diversi e lei parla una sola lingua. In ogni paese dove andrà dovrà esserci per forza una persona che sa la lingua della guida e la lingua del posto. La guida parla e l'interprete traduce per le persone che parlano la lingua del posto. Funziona, ma i tour saranno più lenti perché c'è l'interprete che deve tradurre in mezzo. In ogni paese devo mettere un interprete diverso. Devo aprire obbligatoriamente una parentesi. Se siete un po' avvezzi allo sviluppo web, adesso avrete una domanda. Ma io ho visto del codice sorgente di pagine HTML con dentro PHP e JavaScript. Allora, HTML è un linguaggio di programmazione. Ve lo ripeto, no. PHP è un linguaggio di scripting che viene eseguito sul server e produce come risultato un codice HTML che viene posizionato all'interno della pagina. JavaScript invece è sempre un linguaggio di scripting, ma viene spedito insieme con l'HTML al browser. Quest'ultimo si occuperà di interpretarlo e eseguirlo. PHP e JavaScript non sono uguali. Entrambi servono a rendere dinamica la pagina, solo che uno lavora lato server e uno lato client. Se apri i sorgenti pagina, JavaScript è visibile, PHP no. Tra i linguaggi compilati e quelli interpretati c'è la via di mezzo. Come se la nostra guida insegnassimo una lingua facile da tradurre che l'interprete sul posto riesce a tradurre mentre l'ascolta direttamente ai turisti. Lo so, è un po' forzato, programmatori, perdonatemi. Un linguaggio di programmazione che lavora in questo modo è Java. Voi programmate in Java, poi date il codice sorgente in pasto a un compilatore che non genera un eseguibile per una specifica piattaforma, ma genera un file che viene definito bytecode. Non è più il codice sorgente, ma non è compilato, è una via di mezzo. Sui dispositivi su cui dovrà essere eseguito, si deve installare un software che prenderà in pasto il bytecode, completerà la conversione ineseguibile e lo farà funzionare sulla macchina in questione. Questo software viene spesso chiamato macchina virtuale perché concettualmente può essere considerato come un computer virtuale che esegue il programma. Anche qui un solo file bytecode per qualsiasi macchina. Un client restare su ogni macchina, ma è esecuzione molto più rapida degli interpretati perché il file è predigerito, possiamo dire. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdbchiocciolatucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. È giunto il momento di ringraziare la generosità degli ascoltatori, generosità che permette al podcast di andare avanti sotto l'aspetto meramente economico. Le donazioni mensili, come se fossero degli abbonamenti, questa settimana sono di Giorgio. Le donazioni a sorpresa, quelle non programmate che mi ritrovo nella mail piacevolmente inaspettate, sono di Raffaele, Stefano e Sergio. I satoshi che arrivano tramite il Value for Value grazie al podcasting 2.0 sono di Nicola Gabriele, Andrea, Fulvio, Fetrava e Sconosciuti Vari. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Ricordatevi che se avete donato da 5 euro in su e compilate il form, vi mando i vari gadget. Altri modi per sostenere il podcast sono parlarne con amici e parenti per aumentare gli ascolti o usare i link sponsorizzati o di vari partner. Quelli che se usate, a me arriva una piccola commissione. Potete fare acquisti su Amazon, fare un contratto di connettività con Aweb, il miglior provider che io abbia mai usato. E se avete la partita IVA, abbonarvi a Fiscozen per avere un servizio completo di commercialista online, uno sconto e una consulenza iniziale gratis. Tutti i link sono in descrizione. Avrete sicuramente tutti sentito che Google Podcast chiude. Altro servizio che va a ingrossare il cimitero dei servizi Google abbandonati. Se non lo conoscete è un sito interessante con la lista di tutti i servizi Google cessati elencati dentro delle bellissime lapidi. Io rimpiango ancora Google Reader e non ho ancora beccato il collega da andare a sgridare. Torniamo a Google Podcast. Se lo usate per ascoltare i podcast è innegabile che dovete cercare una alternativa. Ascoltate bene qui che vi lascio due dritte. Tutti i podcast che non sono bloccati dentro le loro app e che non sarebbero comunque dentro Google Podcast come quelli su Spotify o Rayplay Sound hanno un feed RSS. Questo è il file con il quale viene comunicata al mondo la pubblicazione delle puntate. È un formato open che tutti possono leggere. Tra quelli che possono leggere i feed RSS ci sono le app di riproduzione podcast disponibili per ogni piattaforma e di grande qualità ormai. Scaricate l'app, cercate il podcast che vi interessa. ormai hanno anche loro dei grandi indici e vi iscrivete. Tramite il feed loro scaricano la puntata quando è disponibile e vi permettono di ascoltarla. L'esperienza è la stessa di Google Podcast ed Apple Podcast ad esempio. Solitamente essendo app molto verticali sui podcast hanno funzionalità interessanti come playlist specifiche, playlist automatiche, regole varie, miglioramenti dell'audio, gestione dei capitoli e molte altre cose. Forse l'unica cosa che manca sono le classifiche e le proposte di ascolto ma si stanno attrezzando. Mi dispiace perché in Google Podcast Pilole di Bit era sempre tra i primi nella sezione tecnologia in lingua italiana. Peccato. Se siete su iPhone vi consiglio Overcast o Castamatic. Li ho provati entrambi e fanno il loro lavoro egregiamente. Castamatic è anche già abilitato al value for value. Entrambi hanno la parte per Apple Car e funzionano sull'orologio. Se usate Apple Podcast vi consiglio comunque di farci un giro e come passare dalla notte al giorno. Su Android credo sia la maggioranza degli ascoltatori che usano Google Podcast per ovvi motivi ho fatto un po' di indagini e le app migliori di cui ho sentito parlare sono Pocket Cast Antennapod e Podcast Addict. La migrazione attualmente è da fare manualmente e va fatta assolutamente prima che Google Podcast chiuda. Prendete i podcast che ascoltate là e vi ve li spostate quindi manualmente li reinserite sulla nuova app. Lei scaricherà le ultime puntate a seconda delle opzioni che avete messo poi se siete molto indietro potete scaricare manualmente purtroppo tutte le altre. E' anche un ottimo modo per fare pulizia dei podcast mai più ascoltati che occupano tanto spazio sul telefono se siete di quelli che tengono centinaia di puntate che prima o poi forse ascolterete. In ogni caso sto lavorando per spostare il podcast anche su YouTube Podcast che dovrebbe essere il sostituto di Google Podcast. Tutti i link delle app che ho nominato sapete dove potete trovarli. Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bitte grazie anche a Valerio del podcast Pensieri in Codice per la revisione dei contenuti di lui mi fido tantissimo che di mestiere fa il programmatore Ci leggiamo in settimana sul canale Telegram in attesa della puntata della settimana prossima Ciao Ciao